Oggi vediamo come fare la scorza perfetta per i cannoli. Direttamente da Santa Cristina Gela, i fratelli Biscari ci mostrano l'antica ricetta. Alla farina aggiungiamo due uova e continuando ad impassare mettiamo lo strutto, zucchero, vino e cacao, fino ad ottenere una pasta omogenea. Il segreto per le bolle è aggiungere due cucchiai di aceto bianco. Quindi la stendiamo in maniera molto sottile, circa un millimetro. Tagliamo la pasta dando la forma di un occhio. Spennelliamo un'estremità con l'uovo e avvolgiamo in un cannello d'alluminio. Adesso immergiamo i cannoli in olio bollente. Una volta rigirati mettiamo un peso e lasciamo friggere l'altro lato per qualche minuto. Eccoli, croccanti e pieni di bolle, il risultato è perfetto.